Peccato per la Dea, un'Atalanta eroica viene comunque travolta dal City Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video nel quale volevo parlarvi un po' della partita persa da Gasperini che probabilmente eliminerà alla fine dei conti la Dea dalla Champions, però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale Ragazzi, oggi l'Atalanta ha dimostrato a tutto il mondo di potersi da giocare con le grandi d'Europa poi ovvio la condizione alledica delle squadre inglesi è notevolmente migliore rispetto a quella dell'italiane però il primo tempo è stato giocato alla pari e questo è incredibile i primi 20 minuti per me giocate anche meglio dell'Atalanta giustamente in questi 20 minuti accade anche, avviene anche il gol del momentaneo vantaggio rigore è causato da Fernandinho per farlo proprio al limite dell'area ma comunque un pelino dentro è trasformato senza paura sotto la curva del City da Malinowski che ragazzi realizza un penalty in modo perfetto e eccezionale comunque spiazza Ederson e la mette lì a mezza altezza ok ma in modo con scioltezza, in modo sciolto, preciso belle rigore senza se e senza ma poi però Agüero si sveglia, si sveglia dal letargo, il City esce fuori e piano piano travolgerà l'Atalanta fino al definitivo 5-1 un KO totale sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello atletico perché comunque il City oggi ha corso il doppio dell'Atalanta e non vanno date colpi o responsabilità a Gasperini o ai preparatori atletici è proprio una questione di condizione all'edica che in Premier è nettamente superiore rispetto alle squadre di Serie A ma lo si vede anche quando qualsiasi squadra italiana, anche la Juve andò a giocare con il Tottenham un paio di anni fa il Tottenham nonostante uscì e la Juve fece un miracolo a Wembley, correva il doppio, il Tottenham correva il doppio della Juve e ragazzi comunque la Juve l'ho presa come riferimento perché è il top club per eccellenza in questo momento, in questo contesto in Italia e ragazzi il Tottenham non è sicuramente la squadra più forte in Inghilterra eppure la condizione atletica non cambia quindi l'Atalanta per me ha fatto il possibile, più di quello non si poteva fare prima segna Agüero, bel gol anche se c'era quella dose di fortuna perché il pallone passa in mezzo alle gambe di Collini e Agüero sul rigore, il rigore giustamente concesso perché Sterling viene steso da Masiello 2-1 dunque a fine primo tempo segna ancora Sterling, azione strepitosa di De Bruyne sulla quale c'è solo da togliersi il cappello perché azione da campione vero, da giocatore da pallone d'oro e la passa a Foden che davanti alla porta avrebbe anche potuto scaramentare il pallone in fondo al sacco però decide di passarla a Sterling che apre le sue personali d'ansia perché c'è il gol, il primo gol di serata per Sterling, c'è anche il secondo sul suggerimento di Gundogan e c'è anche il terzo bel gol ragazzi, bel inserimento Sterling comunque ha saltato praticamente Collini, l'ho anticipato con il piede quindi lì è stato poi tutto molto più semplice dispiace perché adesso l'Atalanta è praticamente eliminata dalla Champions penso che è vero, hanno paelleggiato Dinamo Zagabria e Shaq Sardones che però ragazzi è praticamente con un piede e mezzo fuori se non di più va comunque onorata la competizione perché c'è ancora la possibilità di andare in Europa League ed è una possibilità da non sprecare perché chissà, non so adesso potrebbe ricapitare a quello che stanno però la vedo tosta che l'Atalanta possa continuare a giocare in una competizione europea adesso sta andando fortissimo però non si sa per quanto tempo durerà la dea del mito la dea di Gasperini, quindi bisogna sfruttare tutte le occasioni e andare in Europa League in un giro del genere non penso sia un'impresa impossibile poi ovvio ragazzi l'Atalanta ha detto molto male sono a zero punti dopo tre partite quindi adesso praticamente il passaggio del turno diventa un'utopia va comunque onorata la competizione che l'Atalanta non giocava da moltissimo tempo ovviamente da quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni ma il termine scomparve nel 93 penso quando la vinse il Marsiglia penso sia quella data da Spartiacque l'Atalanta 40 anni prima della scomparsa quindi parliamo del dopoguerra e quindi ragazzi va onorata la competizione il video invece qui vi ringrazio per la visione vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale ciao a tutti